ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco listo a cosa serve listo a un parafarmaco appartenente alla categoria degli detergenti e saponi corpo è commercializzato in italia dall'azienda i hc erpina hospital consulting di alessandro spadavecchia informazioni commerciali titolare i hc erpina hospital consulting di alessandro spadavecchia concessionario i hc erpina hospital consulting di alessandro spadavecchia categoria di appartenenza detergenti e saponi corpo forma farmaceutica soluzione confezioni listo detergente corpo mille ml listo detergente corpo 500 ml indicazioni soluzione detergente unica viso euro corpo e capelli a euro mani modalità d'uso per il bagno la doccia il lavaggio delle mani e lo shampoo utilizzare come un normale sapone liquido per l'igiene delle persone allettate incontinenti o del bambino sopra i tre anni versare uno o due cucchiai nell'acqua di una bacinella ed utilizzare come un normale sapone liquido il prodotto può essere impiegato anche direttamente sul guanto o su una spugna per la pulizia del corpo descrizione e caratteristiche aspetto liquido per l'aceo viscoso colore bianco per l'aceo odore nota fluore alle peso specifico a 20 a gradi 1,0 25 a più meno 0,0 10 g barra ml ph 6,5 a più meno 0,5 listo soft one euro unico presenta una formulazione delicata e specifica per renderlo adatto all'uso quotidiano come shampoo bagno schiuma prodotto per l'igiene intima esterna detergente per le mani e come sapone liquido in genere listo soft one unico a facilmente risciacquabile compatibile con le pelli sensibili la formula delicata ne aumenta le sue caratteristiche di dermocompatibilità rispettando il naturale grado di idratazione ed elasticità della cute anche in caso di lavaggi frequenti può essere utilizzato anche nell'igiene del bambino sopra i tre anni a ph neutro per la pelle lascia la cute morbida e gradevolmente profumata ogni lotto del prodotto a euro snichel test ed a euro s componenti e ingredienti acqua mea laurilsulfate coccamide idea coccamidopropylbetaine sodium laureate sulfate glicol distiarate coccamide mea laureate 10 sodium cloride citric acid olea europa e oil un sapone fiables profumo metil cloroisotiazolinone metilisotiazolinone i tensioattivi sono tutti derivati dall'olio di cocco il tensioattivo principale a un alkylsolfato che deterge e produce la schiuma coadiuvato da tensioattivi come alkylamido betaina e ammidi da cocco che contribuiscono ad addolcirne l'azione il prodotto ha arricchito inoltre con glicerina vegetale dalle note proprietà omettanti fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato